Parata media, esco, ingaggio lo spray, protezione del volto, porto avanti, esco dall'asse, e poi prendo distanza, perché noi l'abbiamo provato in formazione, quando lo ricevi negli occhi fa malissimo, fa malissimo. Quindi se lì così puoi cominciare a dimenarti, se questo qui magari c'è un bastone, puoi cominciare a far così, perché ci spostiamo dall'asse d'attacco? Non è perché fa scena, ma perché la persona ci ha visto in questo modo, noi lo sprayamo, lui chiude gli occhi, e dunque lui cercherà di andare dritto, a prenderci alla cieca, dunque è importante uscire dall'asse d'attacco.